Dopo anni finalmente un'iniziativa concreta per ricordare una tragedia che ha sconvolto tutta Roma Sì, finalmente dopo anni, tante battaglie siamo riusciti ad ottenere la realizzazione di questo progetto che prevede appunto la realizzazione di un giardino quindi di un'area dove tutte le persone del quartiere si potranno riunire dove sarà prevista anche proprio un'area giochi per i bambini proprio in ricordo delle vittime di via Divina Iacobini e dei bambini che morirono anche in quella tragedia quindi finalmente è un'occasione questa per ricucire proprio l'apporto con il territorio per dare una nuova vita, una nuova speranza a tutto il quartiere è un doveroso ricordo alle vittime Ci siamo sentiti in dovere di presentare un progetto che conciliasse due esigenze da una parte restituire uno spazio alla cittadinanza ma dall'altra ovviamente quella di ricordare la tragedia più nefasta della storia di Roma dopo la fine della seconda guerra mondiale dove persero la vita tantissime persone e quindi è giusto dedicare quest'area a spazio di traffico anche ai bambini così da poter avere conservata la memoria anche per le future generazioni Manca però ancora l'istituzione di una giornata vera e propria di ricordo per il quale continuerete comunque a battervi Assolutamente sì, era una promessa che ha fatto anche l'amministrazione attuale noi cercheremo di portare avanti anche questa battaglia parallelamente e sarà quindi un percorso che insieme ai comitati sia vittime del Portuense che Portuense Vignavia cercheremo di portare avanti fino appunto all'istituzione della giornata del ricordo per le vittime del Portuense Tenevamo molto all'istituzione di una giornata alla memoria e quindi abbiamo chiesto a gran voce al Comune nel corso di questi anni di ottenere questo ricordo quindi l'istituzione di questa giornata che tra l'altro è un'iniziativa che non avrebbe costi per l'amministrazione quindi sarebbe una cosa a costo zero e facilmente realizzabile quindi speriamo di ottenere anche quest'altro risultato Grazie! Grazie! Grazie!